Bare abbandonate, sangue sui pavimenti e generale mancanza di igiene e anche mancata separazione dei percorsi covid per i feretri in arrivo. Sono questi i problemi maggiori riscontrati nei controlli effettuati negli obitori dal Comando Carabinieri per la tutela della salute. In Italia sono stati ispezionati 375 tra obitori e camere mortuari e interni alle strutture ospedaliere o analoghe esterne e anche private adibite al commiato. Nel corso di questa ispezione presso l'obitorio di pertinenza dell'Asla di Pescara, svolto durante l'aumento dei decessi connessi all'emergenza covid, il NAS in collaborazione con i Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro ha accertato gravi carenze igienico-sanitarie e organizzative nella conduzione dell'attività. Sono state rilevate macchie di sangue sul pavimento sporco, incrostato e perdita di liquidi dalle bare. In collaborazione con il NIL è stato ispezionato anche l'obitorio dell'ospedale di Teramo che è gestito da una società privata. Anche qui sono state rilevate gravi carenze igienico-sanitarie e organizzative poiché la totalità degli ambienti richiedeva interventi urgenti di ordinaria e straordinaria manutenzione, oltre alla mancanza di idonei e separati percorsi delle salme decedute appunto per covid. Diverse le denunce.